Quello che non mi piace molto di questi nostri tempi, amici miei, è che vedo che per lo più si parla per slogan, cioè tu conversi con un'altra persona, dovresti conversare, questa persona ti lancia il suo slogan sul soggetto del discorso e non articola poi il suo slogan giustificando perché è arrivato a quella conclusione, no, ti piazza in faccia la sua conclusione e attende che tu gli rispondi con il tuo slogan. Amici miei, riprendiamo il gusto della conversazione, arriviamo eventualmente allo slogan dopo che abbiamo fatto un ragionamento che lo giustifichi. Grazie a tutti.